Ristrutturazione del primo piano Invece prima erano rossi e bianchi, i pali erano bianchi, vedi questi piani, queste traversine erano bianche, state fatte nere, queste erano rosse state fatte nere, l'impiantito è nuovo, è di ghisa, quello per me non va bene, però come lo è, c'è una mabella, è un ambiente che non è tanto sano, nel senso che non è climatizzato, Bello, visivamente l'è bello, in ospitale come è sempre stato, faccio un mercato, di quanto ci vuoi fare Lei ha il banco giù ora? Fuori, e ha ridotto il suo spazio? Gli spazi sono di 5 metri per un metro e mezzo, un po' miserimi, non è praticamente fatta la verdura Il comune ci vuole mettere nel piano terreno, nella zona dove c'è gli spazi vuoti Ma non ci starete tutti? Loro dice, ci si sta, si starà a vedere Una situazione un pochino pesante, anche finanziariamente, anche per i miei colleghi, perché almeno c'è sempre la solita famiglia che avevano, quando erano su, ce l'hanno anche ora, no? Che prima spendevano totte come budget, ora spendono uguale, ma dentro altri sono molto cambiati Sarebbe utile, potessero fare qualcosa per anche rilanciare un po' il mercato, per levare anche queste immagini di degrado, che poi di fatto non c'è E poi hanno fatto questo bel investimento, fatto bene, ovulato, perché l'ambiente è molto bello Però, se non ci fanno niente, puoi buttare via sotto Per rilanciare il mercato, ma così il mercato non viene rilanciato, così il mercato viene fatto viene ben più a terra di prima Poi si vede, lo vedi, lo vedi il movimento delle persone che ci sono Basta vederle, stare una mattinata nel mercato, si vede subito come funziona Avevo due banche, invece ora qui mi trovo con un banco, una cella di perifero, meno spazio, tutto ridotto, vedi? E tu lavori male Non puoi fare più il gioco di mercato, perché non puoi più acquistare quantità enorme C'era su, perché non c'hai spazio La ristrutturazione del primo piano potrebbe portare più clienti anche a voi? Dipende come lo studi Bisogna vedere come portano avanti il progetto Per ora, per quanto ci è noto, non hanno dato l'approvazione per mettere più di 100 persone i vigili del fuoco Se tu risulti di 100 persone, ce lo vorrai mettere, ma anche da portare Staremo a vedere!